Questa Fontana di Trevi già l'abbiamo fatta diverse volte, però un po' così, un po' fumettistica, un po' impressionistica. Stavolta vogliamo farla proprio disegnata, cioè disegnata no, dipinta con l'acquerello, però con un acquerello disegnato bene, un acquerello preciso, in maniera, diciamo, fotografica, realistica, iperrealistica. Useremo due colori, due colori che ci hanno già dato delle belle soddisfazioni, il blu cobalto e il rosso inglese. Potremmo usare anche la coppia blu oltremare e terra di siena bruciata, è una coppia che funziona molto bene. Questa è il terra di siena bruciata e questo è il blu oltremare. Mischiandole si ottiene un bel colore bistrato. Il quale colore bistrato per le ombre sarà più bluastro e per le parti in luce sarà più rossastro, più caldo, cioè conterà più terra di siena bruciata rispetto al blu oltremare. Possiamo usare o questa coppia di colori qua per fare tutto il dipinto, perlomeno per fare tutta la base del dipinto. Poi successivamente metteremo degli flessi colorati con altre velature di altri colori. Questi due, questa coppia qua è carina, è bella, è interessante. Tuttavia l'altra coppia, cioè il blu cobalto e il rosso inglese, Secondo me è più bella. C'è più fascino. Questa sarebbe la gamma. Freddo, medio, caldo. Niente, passiamo al lavoro. Ormai è deciso. Quindi cominciamo nel prelevare una bella quantità di blu cobalto. Il blu cobalto che è già mischiato con un po' di rosso inglese. Quindi noi stiamo preparando adesso tinta per le parti scure. Sarà quindi questa qua, ma logicamente per lo scuro più scuro dovremmo mettere anche gli scuri proprio veri. Quindi della terra d'ombra bruciata, del Van Dyck, che potrebbe anche chiamarsi seppia, del seppia, del colore seppia, e ovviamente del nero. A questo colore qua lo stempereremo con un po' di questo, per evitare di avere proprio un nero fumo, diciamo. Un nero troppo spento. Ecco qua. Questo è un nero affascinante, veramente, perché ha in sé anche un pochino di blu e un pochino di rosso indiano. Possiamo cominciare a lavorare. Arrivati a questo punto il quadro logicamente non è finito. Abbiamo fatto solo le ombri. Ci fermiamo un attimo e ci occupiamo di dare una sfumatura, di sfumare queste ombri. Come daremo questa sfumatura? Essendo un acquerello si può sempre riprendere, anche da asciutto. Quindi prendiamo un pennellino di sedola, bagnato con acqua umido. E possiamo ripassare sul colore asciutto. Possiamo passare tranquillamente, livicando e dando, diciamo, uno sfumato. Quindi fondendo dei toni tra di loro e sfumandoli. E dove vediamo che è necessario, per esempio dove ci sono dei particolari arrotondati come le colonne o cose di quel genere. Quindi usando un pennellino di sedola, magari spuntandolo, cioè accorciando le sedole, in modo che diventano ancora più dure e quindi ancora più adatte per questa operazione. Andiamo a sfumare dovunque, vediamo che c'è da sfumare. Ora, qualcuno potrebbe dire, beh però gli acquerellisti in genere non lavorano così. Ma questa è una diatriba, una discussione che si perde nella notte dei tempi. Erano scuole di pensiero diverse, anche nell'antichità c'erano queste scuole di pensiero diverse. Chi quindi, diciamo, lavorava tutta prima sia su Zavalolio, sia su Zavalolio, sia su Zavalolio, anche l'acquerello, i colori d'acqua. E sia invece chi lavorava, diciamo, in maniera più metodica, per fasi, in maniera quasi più matematica, quasi più scientifica, più tecnica, ecco diremo meglio. E quindi, e quelli che erano, diciamo, pittori ma anche artisti, artisti ma anche, diciamo, scienziati, architetti, come potrebbe essere il Dürer, come potrebbe essere stato Leonardo e tanti altri, insomma, il Vasari, cioè che quindi univano, unificavano tutte le scienze in uno, cioè non è che fossero solo pittori o non è che quando facevano i pittori e non mettevano in mezzo anche la chimica, la scienza, la geometria, usavano di tutto, anche l'ottica. E quindi, se a noi ci va di seguire un certo metodo, a tutta prima, più distinto, lo seguiamo. Se abbiamo voglia, viceversa, di lavorare, diciamo, in maniera più analitica per fasi, come sto facendo io, ecco, per esempio adesso a Drizzo do, diciamo, una linearità a quella colonna che era stata un po' più abuzzata, no? Come avete visto, ho messo un cartoncino, sempre col pennello umido, e sono passato sopra questo cartoncino in modo che il cartoncino mi ha consentito di dare una sfumatura veramente rettilinea, veramente dritta. Si procede in questo modo, quasi ridipingendo, forse levigando, un po' come uno scultore che prima fa un abbozzo e poi dopo leviga il marmo per portarlo a perfezione. E quindi, questa è la sfumatura eseguita. Questo era il dipinto prima di essere sfumato e questo dopo la sfumatura. Ovviamente abbiamo fatto soltanto la prima parte, la parte delle ombre. Dopo aver terminato anche le parti chiare, cioè il chiaroscuro delle parti più chiare, delle luci, anche in questo secondo stadio dobbiamo riprendere il nostro pennello di sedola duro, bagnato, umido d'acqua e sfumare anche queste alte luci qua. Diciamo, prima abbiamo dipinto dal 100%, se vogliamo definire il 100% il nero, quindi il 100% della scurezza, fino al 50%. Nella seconda parte del nostro lavoro abbiamo steso, diciamo, le tinte, i toni, che vanno dal 49% fino allo zero, cioè intendendo quindi lo zero come il bianco. Quindi, anche in questa seconda fase, dopo che abbiamo steso le tinte del chiaroscurato, della parte chiara del chiaroscurato, anche in questo caso dobbiamo preoccuparci di passare alla sfumatura, a sfumarle. E quindi, non una sola colonna, ma tutte. Tutte le colonne, nella parte, diciamo, marginale, sono estremamente dritte, estremamente geometriche, rettilinee, quindi noi dobbiamo dargli questo aspetto. E possiamo farlo, appunto, con questo sistema. Ma, cartoncino o qualunque altra cosetta, tipo un righello, basta avere il pennello umido, pennello di sedulatura umido, perché anche le altre luci le abbiamo date, appunto, così, a tinte piatte, zona per zona, stagliate, geometriche, diciamo, sempre per quel discorso di prima, di portare avanti una vettura, un acquerello, diciamo, tra virgolette scientifico, artistico, ma anche scientifico, tecnico, per avere un effetto realistico, iperrealistico, meno impressionistico e più realistico. E anche qua, nelle parti, diciamo, arrotondate, sia delle colonne, sia degli altri elementi, le statue che raffigurano corpi umani, che notoriamente sono molto, diciamo, arrotondati, molto plastici. Quindi, dove c'è da dare la sfumatura con la righella, diamo la sfumatura con il righello, dove c'è da sfumare più a mano libera, negli elementi abbombati, arrotondati, sfumiamo a mano libera. Ora, io vorrei paragonare questi due sistemi, il sistema così a tutta prima, e il sistema più analitico di approccio alla vettura, con il cibo. E non so se voi avete mai provato a salire su un albero in primavera, in estate, su un albero da frutto, può essere un pelo, un ciliegio, e rimanere appollagliato su qualche ramo e mangiare un frutto dopo l'altro, cioè colti e mangiati. È una sensazione molto bella, una sensazione unica, magari all'ombra del fogliame, all'ombra del sole con il fogliame. È molto bello. È un tipo di approccio alimentare di cibo così che potrebbe essere paragonato alla vettura tutta prima, la vettura di getto, di stinto. Altra cosa invece è avere una cucina a disposizione degli attrezzi da cuoco e preparare, diciamo, una pietanza seguendo una ricetta, seguendo un procedimento che prevede varie fasi, taglio, mescolamento, lievitazione, cottura, doratura, tutto quello che sia. Ecco, sono due cose diverse. non è che dobbiamo avere due fazioni nelle quali una scomunica l'altra e quindi, diciamo, una giudica l'altra una schifezza. Sono due cose, due modi di approcciarsi all'arte, entrambi belli, molto diversi tra di loro, ma entrambi interessanti, culturali, e che possono dare molta soddisfazione. Rifiniamo con la matita. Matita 4B. 4B perché? Praticamente si avvicina, può sostituire, può sostituire il colore dell'acquerello, nel senso che qui per esempio manca il disegno della mascella che nella foto è presente e qui invece non è venuto. Così come una migliore forma degli occhi, diciamo, no? Ma anche del naso. Ma anche altri elementi come la forma della mano, del braccio, che noi con la matita possiamo dare la definizione, possiamo aumentare la definizione, possiamo aumentare il disegno, diciamo, la definizione del disegno. Dopodiché, col solito pennellino di sedola duro, umido, ecco qua. quello che è stato un colpo di matita è diventato è diventato come una pennellata di acquerello. Perché la graffite della matita 4B e diciamo con l'acqua si scioglie e diventa come un pigmento dell'acquerello. Però abbiamo avuto il vantaggio che l'abbiamo dato con una punta, la punta della matita. Quindi abbiamo potuto fare, abbiamo potuto aumentare la definizione dell'acquerello in questo modo. e così tutti gli altri particolari aumenteremo la definizione a tutti da tutti i punti che lo richiedono per poi ripassarci appunto con il pennellino con il pennellino di sedola duro umido in modo da trasformare appunto gli interventi fatti con la matita in pennellate finissime di acquerello fatte come con un pennello 00 per intenderci. di acquerello vediamo quindi come spariscono i segni della matita ma rimangono rimane la definizione della pennellata trovo che l'uso della matita 4b 6b 7b 8b ancora meglio e insieme con l'acquarello si sposino benissimo per cui diciamo la comodità dell'uso della punta della matita usata per sostituire quindi un pennello estremamente fino che richiederebbe molta più attenzione e molta più lavorazione e questo è il risultato finale cioè abbiamo finito tutto tutto lo sfumato tutto il disegno tutto il chiaroscuro ma rimanendo nel monocromatico in qualche prossimo video insieme daremo una colorazione cioè apriremo delle velature di colore trasparente per dare una colorazione verde azzurrognola nell'acqua riflessi dorati nelle parti in luce eccetera eccetera